Per far diventare mamma Tamara, 34 anni, sono serviti un cuore stampato in 3D e una squadra con personale della cardiologia pediatrica, dell'emodinamica e della ginecologia, oltre agli specialisti dell'intensiva neonatale dell'ospedale Niguarda di Milano. Per la donna, affetta da una cardiopatia che non le avrebbe permesso di portare a termine la gravidanza, è stato infatti realizzato e impiantato un cuore 3D stampato sulla base delle immagini anatomiche messe a disposizione dagli esperti di risonanza magnetica cardiaca dell'ospedale. È stato uno dei casi più delicati seguiti nel centro di Niguarda, dedicato alle cardiopatie in gravidanza degli ultimi anni. La situazione della mamma, nata con una malformazione cardiaca chiamata trasposizione delle grandi arterie, per cui la aorta e l'arteria polmonare sono invertite in un'autonomia anomala, era stata giudicata da molti centri incompatibili con una gravidanza. Da qui l'idea di realizzare una replica esatta del cuore della madre stampato in 3D, da utilizzare per provare l'intervento più volte, in modo da conoscere a memoria tutti i singoli passaggi della procedura, con la possibilità inoltre di selezionare già la strumentazione più adatta da portare in sala. Così, grazie all'intervento, il cuore della mamma ha potuto sostenere la gravidanza fino alla soglia della 31esima settimana.